Parla tifoso napoletano. Grande attesa in città per l'arrivo di altri due nuovi rinforzi. Romelu Lukaku sarà un nuovo giocatore del Napoli, il club azzurro riesce finalmente a sbloccare la trattativa. Napoli e Chelsea hanno definito un'operazione definitiva da 30 milioni di euro. L'offerta originaria del Napoli, 5 milioni per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto, è stata respinta. I Blues volevano 40 milioni, 4 in meno del valore della clausola rescissoria. Giovanni Mann e il Chelsea hanno comunque raggiunto un accordo definitivo su un compenso fisso di 30 milioni di euro, compresa una clausola di rivendita. Secondo Umberto Chiariello, in caso di rivendita entro i prossimi tre anni, il Napoli pagherebbe al massimo 15 milioni di euro. Lukaku firmerà con il Napoli un contratto triennale fino al 2027. Passando alle altre notizie, il club azzurro ha deciso di effettuare un'altra cessione per ridurre la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime ore, come riportato da Matteo Moretto, Napoli ed Espanyol stanno finalizzando il prestito stagionale di Walid Kedira. Inoltre, il Brighton avrebbe chiuso la trattativa per Matt O'Reilly, il giocatore che andrebbe a sostituire Gilmore nella propria rosa. Il calciatore del Celtic firmerà con i Seagulls per un totale di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il Napoli ha già programmato i test per il giocatore del Brighton lunedì, mentre l'attaccante belga dovrebbe sostenere i test martedì. Intanto il Napoli si è visto respingere un'offerta da 18 milioni di euro più bonus per il giocatore dello United. Nelle ultime ore, però, è stato confermato che il Napoli ha raggiunto l'accordo per l'acquisto di MC Tominay per 23 milioni di euro, più bonus. Quindi fan, non dimenticare di iscriverti al canale. Torneremo presto con ulteriori aggiornamenti.